A nome di Banco BPM voglio ringraziare il Presidente Bianco e il Presidente De Caro per questa opportunità di firmare un'importante convenzione per tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni locali e dei comuni del nostro Paese. Sappiamo che sono quasi 8.000 comuni, centinaia di migliaia di dipendenti che possono con questa convenzione vedersi riconosciuti il trattamento di fine rapporto all'atto dell'andata in pensione che è una cosa importante perché consente dopo anni di lavoro di realizzare i propri progetti senza dover aspettare i tempi a volte un po' lunghi della burocrazia. E' qualcosa che ci fa molto piacere estendere a Lanci perché rappresenta come la nostra banca le realtà che sul territorio devono far succedere le cose e grazie al lavoro di tutti i dipendenti dei comuni e delle amministrazioni locali sappiamo che è un po' l'ossatura del Paese. Quindi il nostro ringraziamento va all'oro con questo segnale di attenzione che i due Presidenti e noi abbiamo voluto dedicare ai comuni italiani.